buonanotte ragazzi buonasera ecco questa ora facciamo la prova è una notte stellata quindi non so quando si quanto si potrà vedere c'è un terreno dietro casa mia in fondo a circa 100 metri c'è una siepe spero che si senta poi cominciamo brevissimo video questo prima di che si allarmi nei vicini per le luci cominciamo prima la torcia prima prova la torcia del micro roni da 500 lumen guardate laggiù ecco questa è la torcia da 500 lumen del micro roni e quello che riesce a illuminare ok seconda prova torcia da 1200 lumen la valchieri pl2 ok terza prova la valchirie che ho preso oggi la pl pro 1500 lumen queste sono le tre torce che sto usando che ho comprato nel mio equipaggiamento una breve panoramica 1500 lumen 1200 lumen e qua 500 lumen da vicino la torcia da 500 lumen sembra che diffonda di più mentre le altre due arrivano più in lontananza con il video non si vede molto sinceramente questa ecco la torcia più potente l'illumina fino in fondo ecco qua adesso avevo messo la bassa illuminazione questo sono 1500 lumen a piena potenza la torcia è carica si vede fino in fondo passiamo all'altra torcia da 1200 lumen anche questa è la torcia praticamente nuova però ecco le batterie sono un po' usate ma non tantissimo è passata una macchina spero che non si spaventi questa è la torcia da 500 lumen che non arriva fino in fondo ma diffonde molto di più un fascio di luce molto più ampio quella del micro roni questa è spero che il test vi sia piaciuto ora vado a caricare il video ora vado a caricare il video grazie a tutti